Alvia ieri sera la manifestazione Bookmark che vuole promuovere letteratura, scrittura ma anche buona cucina e buon vino. Bookmark è la nuova edizione della festa del libro, rivisitata ed inserita all'interno di un più ampio contesto teso a fare sintesi di cultura, sapori, letteratura e territorio. L'evento promosso dall'Associazione Asud è stato progettato da Sky Comunicazione con il patrocinio del Comune e della Provincia di Potenza, del Comune di Matera e della Camera di Commercio del Capoluogo. La direzione artistica è di Felice Vino, numerose le iniziative come quella di ieri sera in un noto locale del Capoluogo dove la scrittrice Francesca Sassano ha presentato alcuni dei suoi lavori di narrativa e poesia. Scrivere è un esercizio continuo per chi ama farlo, inizialmente si scrive per se stessi però poi alla fine il desiderio è che gli altri ti leggano. Chi ama scrivere è alla ricerca continua di quello che è lo scritto degli altri perché vuole organizzare meglio i propri pensieri però oggi forse leggere non è una delle attività preferite dai ragazzi e quindi di conseguenza appare opportuno che ai giovani venga sollecitata la lettura. La lettura poi se fatta a livello collettivo è anche un'occasione d'incontro, per questo abbiamo creato questo circolo di lettura a cocco. Adesso stiamo rifacendo la programmazione perché dovremo partire con i nuovi appuntamenti, speriamo di coinvolgere quante più persone sia nella lettura sia nell'inviarci testi per poterli poi presentare in queste occasioni. Oltre alla possibilità di prenotare le cene con gli autori di libri è possibile visitare a Palazzo Loffredo a Potenza l'esposizione fotografica Il vino in bella mostra e quella sul tema della conflittualità intitolata Fight. Per conoscere tutte le altre iniziative è possibile consultare il sito www.bookmarklibri.com